A giravano la normativa presentando copia della domanda Unilav, così come previsto dal decreto Flussi, autorizzando l'ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari, consentendone il permesso di soggiorno della durata anche di un anno, anche senza mai regolarmente lavorare, a farne richiesta agli imprenditori agricoli che ricevevano denaro in cambio in media anche circa 1000 euro. I migranti pagavano invece dai 5.000 ai 12.000 euro per la falsa documentazione, finendo a lavorare anche nei campi a nero. All'organizzazione criminale arrivavano invece non solo soldi per i permessi di soggiorno ma anche per il caporalato e questa è in sintesi l'operazione sull'immigrazione clandestina del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno scattata alla primo luci dell'alba in vari comuni della provincia di Salerno e in altre città italiane condotta con il supporto del settimo nucleo elicotteri di Ponte Gagnano, del nucleo carabinieri, ispettorato del lavoro di Salerno e del personale dei comandi provinciali carabinieri di Matera e Pistoia. In azione circa 200 militari. Il blitz è scattato in 10 comuni salernitani, Battipaglia, Eboli, Monte Corvino Pugliano, Levano sul Tusciano, San Marzano sul Sarno, Ponte Gagnano Faiano, Nocera Inferiore, Pagani, Altavilla Silentina e Idangriga ma contemporaneamente anche a Policoro in provincia di Matera e in provincia di Pistoia. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa su richiesta della Procura e del GIP del Tribunale di Salerno nei confronti di 35 indagati, 27 arresti domiciliari, 8 obblighi di dimora e di presentazione alla Polizia giudiziaria accusati a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento e sfruttamento dell'immigrazione clandestina, intermediazioni illecite, sfruttamento di lavoratori, conno senza permesso di soggiorno, riduzione schiavitù e tratta di persone. Dei 35 indagati, 8 non sono stati rintracciati e continuano ad essere ricercati. L'inchiesta è partita nell'agosto del 2015 per far luce sul fenomeno del caporalato nella Piana del Sele. Le indagini condotte sia con metodi tradizionali che con intercettazioni hanno consentito di scoprire le dinamiche di un fenomeno ben più complesso. Oltre ai permessi di soggiorno falsi che secondo le stime dei carabinieri hanno generato proventi per oltre 6 milioni di euro a partire dal 2012 c'erano anche i guadagni del caporalato che erano probabilmente la parte più consistente del giro d'affari dell'organizzazione a capo del gruppo Hassan, detto a post che gestiva il business dei migranti. I militari hanno ricostruito ruoli, gerarchie e modus operandi di un'organizzazione criminale con base nel Salernitano ma con ramificazioni anche in altre città ed appoggi in Francia, Belgio e Marocco che riusciva a fare entrare illegalmente in Italia i migranti extracomunitari e poi li riduceva in schiavitù. Dell'associazione facevano parte sia stranieri che italiani. Al vaglio degli inquirenti anche la posizione di 400 lavoratori arrivati in Italia tra il 2015 e il 2018 che avevano ottenuto un permesso di soggiorno stagionale per motivi di lavoro. Questo è importante però nello stesso tempo sono stati importanti i riscontri dal punto di vista oggettivo perché chiaramente ci sono stati tantissimi riscontri dalle intercettazioni e dalle carte che sono state poi recuperate e analizzate volta per volta per capire come avveniva questo traffico che riusciva a trovare un vulnus nello strumento di legge previsto. In realtà loro dalla legge sono riusciti a trovare poi un modo per evadere da questa legge. Un'occasione ovviamente anche per reclutare a nero lavoratori. Certo era un modo per reclutare a nero perché queste persone che non vedevano poi perfezionato il loro contratto rimanevano comunque sul territorio e venivano utilizzati come lavoratori a nero. Infatti importanti sono stati anche i riscontri che abbiamo fatto con i carabinieri dell'ispettorato del lavoro. Scattava una forma di ricatto? Scattava anche una forma di ricatto. È stato detto anche in un caso che sono stati trattenuti i documenti. In realtà poi abbiamo visto di come ogni soggetto era diverso dall'altro anche in relazione a quella che era la sua capacità economica. Sostanzialmente chi aveva pagato di meno per arrivare in Italia in questa forma pseudo legittima era quello che poi veniva sfruttato maggiormente anche sul territorio. Quanto ricevevano invece gli imprenditori agricoli che si prestavano a presentare queste domande? Lì era varia, dalle 500 a 1000 euro e in questo caso poi avevano comunque la disponibilità del lavoratore da sfruttare a nero.